Cosa di innovativo, c'è un execo, c'è un execo, sempre per questa categoria, quindi chiedo a Davide Cattaneo di tornare sul palco per consegnare il premio al punto vendita di questo execo. Siamo tutti, ci sarà sicuramente, anche Davide Cattaneo di sentiti, il signore punto vendita è Gagliardini, S.A.R.L. S.A.R.L. Ho preso un premio adattorino. Prima c'era. È andato via. No, c'era Gagliardini. Anche a te. Gagliardini sta scendendo, andiamo a piano di alti, scende Gagliardini. Gagliardini, se vuoi che io bevo un sorso d'acqua, salutare il pubblico che ti merita il suo lavoro. Se però le dite tra di voi, noi non sappiamo quale segreto stare condividendo. Gagliardini, doppietta anche tu. Doppietta anche tu, stai insidiando la leadership di Colombini quest'oggi, lo sai? C'è un testo a testa. È un testo a testa. Non c'è più di premio. No, c'è un altro premio, c'è il best winner, quello più... Non è detto che non ci sei, perché non ho ancora ricevuto degli stimoli all'assegnato. Quindi hai ancora, hai capito, delle possibilità, anche delle offerte. Quello dico, va bene, io ti invito a fare questa tua seconda foto. Vieni qua a fare la seconda foto. Eccolo qua. Sono curioso di una cosa. Chi dice due premi a due vetrofanie? Eh beh, certo. Quindi avete tutto questo, come ti chiamo tante medaglie, esporte. Una meraviglia. Benissimo, ci sarà ombra sulla tua vetrina da quante vetrofanie vai per i pelli viti questa sera. Grazie. Grazie a tutti.